Ciao ragazzi benvenuti ben trovati sul mio canale, io sono Magnus, oggi siamo qui su Dead Space il primo, naturalmente questo è un video come sempre tutto su, per commento un bel mi piace, è stata annunciata che uscirà la versione remake di Dead Space esattamente il 27 di gennaio del 2023 di WPC che per le next gen PS5 Xbox serie X ed S oggi siamo qui su Dead Space un survival horror che a quei tempi andò veramente fortissimo Specialista tecnico sistema di bordo Tempo in contatto, 3 minuti Isaac sono io, vorrei poter parlare con te, mi dispiace, mi dispiace per tutto quanto, vorrei poter parlare con qualcuno, questa stupe, non riesco ancora a crederci, è strano una cosa così piccola Quante volte hai guardato quel messaggio? Deve mancarti molto, non preoccuparti, ci siamo quasi, dovresti riuscire a incontrarla subito una volta a bordo, scommetto che voi due avrete parecchie cose da dirvi Quanto bene gente ci siamo, sincronizzazione dell'orbita Quanto casino per col pezzo di roccia Registrazione spaziale è un'attività redditizia Miss Daniels, in base al rapporto del prospettore EG7 è una miniera d'oro, cobalto, silicio, osmio Allora, dov'è? Eccola là, confermo il contatto visivo Cos'è quella è la Ishimura? Notevole? La USG Ishimura? Il miglior planet cracker della sua classe, e sembra che si siano già messi a lavoro Perché è buio? Non c'è illuminazione? Caporale si avvicini e invia un segnale Rimanga alla largata dei detriti, dobbiamo riparare una nave, non danneggiare la nostra Eh USG Ishimura, qui squadra di supporto emergenze della USG Kellion in risposta alla richiesta di soccorso Rispondete Ishimura Se non c'è energia, va potenziato il segnale Sì, certo Potenzi il segnale Di più Mai sentito di un blackout totale delle comunicazioni su una di quelle cose? Mille persone a bordo e nessuno che riesca a trasmettere E questo cos'è? Un'avaria al sistema di trasmissione, come ipotizzato Un problema con il codificatore Se scendiamo io e Isaac, possiamo sistemarla 48 ore al massimo Avete sentito la signora? Vediamo che c'è da sistemare Legami gravitazionali attivi, attracco automatico attivato Ma che cosa? Signore, è l'attracco Che c'è? Urteremo lo scafo Attivare gli scudi Il loro radiofaro è danneggiato Procedura manuale, ora! Dentro il campo magnetico Sei impazzito Annullare! No, possiamo farcela Caporale, le ho dato un ordine Il campo è troppo forte State tutti bene? Cosa? Cosa diavolo credevi di fare? Volevi ammazzarci tutti? Ho appena salvato il culo a tutti, Miss Daniels Interrompendo le operazioni a quella velocità e distanza Ci saremmo schiantati sul fianco della Ishimura Ora diamoci una calmata Caporale, rapporto Non ricevo dati dal propulsore di Babordo Abbiamo perso comunicazioni e pilota automatico Ci vorrà un po' per sistemare Noi abbiamo già subito messo il casco Non ricevono dal ponte di volo a dare una mano Stai fermo, Isaac Sincronizzo i rig di tutti con la nave Ok, siamo a posto Verifica sanitaria superata con successo da tutti Molto bene Abbiamo un lavoro da fare Andiamo Ma c'è proprio un ambiente amichevole Il casco è fantastico Immaginare la versione Revec Realizzeranno Obiettivo aggiunto Speriamo di non avere problemi Non era solo un calo di potenza a Babordo Abbiamo perso il propulsore Incredibile Sembra contenta Main arma no Allora vediamo un po' come funziona Allora abbiamo l'hangar Con la mappa Segui la squadra Manca dati Inventario Abbiamo solo un kit medico Credo non ci sia più energia Isaac Vieni qui e fai una derivazione Sì Mi sono blocchiato Usa interruttori Sblocca Ok Dove vado qua? Apertura penso Scusate Beh Non è una cassa? No eh Segui una vadigia per tela Quella è una cassa No Che roba Tutto blocchiato Apro sempre io Sembra che se ne siano andati in fretta e furia Dovrebbe esserci meglio la sicurezza Sì Beh non c'è Non c'è nessuno qui Non rilevo alcuna trasmissione La console di sicurezza è attiva Isaac Collegati e vedi cosa riesci a scoprire Kendra Riattiva quell'ascensore Non c'è energia Non posso Allora reindirizza la dannata energia Ascoltate Se cooperiamo ce la faremo senza problema Attivo lo schermo di quel computer Isaac E l'avevo già fatto Cioè nel senso Mi ero già Entrato Usa il 4-2 per trovare Il prossimo obiettivo Parremi Schermata mappa Ok Ma questo è blocchiato Devemmo attivare penso questo Non va affatto bene Ha subito moltissimi danni Il sistema di trasporto è spento Gli spostamenti non saranno facili L'aria è tornata a circolare È già qualcosa Che non si è Che cosa è stato? Il sistema di quarantena automatico Deve essere scattato Quando sono ripartiti O su Calmiamoci su E ti gavano Sono rimasto blocchiato Cosa è stato? Non lo so Che è successo? Non lo so C'è qualcosa qui Sì E oddio Fuoco Fuoco Entra L'energia Che entra Dai Dai Ecco Isaac Vieni subito via da lì Le posti ci sono aperte Corri No Si è aperta l'altra Oh Porca miseria Si è aperta l'altra Porta 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 Oddio mio Corri Non riesco a correre tanto Mi do alle spalle Penso che Ok Madonna Pensami Perca miseria Ce l'abbiamo fatta L'altro penso sia schiattato Una coca No Ok Questo è ancora un cavolo che sono Tasto Ho trovato una grande pistola La vita di mira Ok Fuoco E Ricarica Con Ar Uno Di calcio Ah Colpisco E c'è qualcosa Si E' morto Che cos'è Ah ci sono i soldi Buono Occhio perché penso che all'improvviso Dico mi cadono in testa Non c'è però Ah ecco la salute L'hai presa Ah L'inventario Faccio prima così Ok Appamission Ok Ok Sono Benson Ascoltatemi tutti Si spostano attraverso i condotti della nave State lontano Attenzione Indietro Indietro Ah Ah Che stava bella Ok Che è successo Isaac Isaac Mio Dio Non riesco a credere che sia vivo Isaac Ne abbiamo incontrati altri venendo qui Tu stai bene? Altri? Cosa sono quegli orrori? È l'equipaggio Parla pieno Qualsiasi cosa sia non sono amici E metà delle porte della nave sono bloccate per la quarantena Ora dobbiamo raggiungere il ponte Ma prima dovremo riparare il sistema di trasporto Tu sei matto, Hammond Ci farai ammazzare tutti Se mi ascolti ti porterò fuori da qui sana e salva Qual è il problema con il trasporto? La scheda è andata Ma dovrebbe essercene una di ricambio nel centro manutenzione Però c'è anche un trasporto in avaria che blocca il tunnel Lo dovremo riparare Dannazione Tutto nel settore è bloccato dalla quarantena Non possiamo arrivarci da qui Noi no Ma tu puoi Isaac Ascolta Se arrivo al ponte avrò accesso a tutti i file del personale Ripara la vettura E ti aiuterò a trovare Nicole Una minaccia praticamente Allora comando rapido Cambia obiettivo Di qua posso entrare C'ho l'affanno Ce l'ha giù Ah questo è la Allora Ok No Sì Guardi Da dove si va Ascolta Questo Soldi Iaia Qua già qua salvo Qua dire Sei imbranato E schiatti subito Parla Benson Sezione trasporti Forse abbiamo capito come fare Mick ne ha acceso uno Non serve colpirli al corpo Bisogna staccare gli arti Con una lama o qualcosa del genere Farli a pezzi Ok Grazie per l'indicazione Bisogna colpirli al corpo Fai attenzione Sembra che colpirli al corpo Non serve a nulla Mira gli arti Devi smembrarli Questo dovrebbe funzionare Spagno Spagno il sogno Rimando gli arti Nemici La fuggi Da nieca Sembra Che avversario Non ciddi in fretta Che brutta zona Però non è che magari Che qua c'è qualcosa Perché sono criti Quindi ci vuole magari Dai di qualche cazzotto Così Allora ho trovato Stasi rallenta gli oggetti E nemici più veloci Ok Quindi modalità E poi terminiamo Ips Sembra che quella porta Sia in avaria Isak Prova a usare Il modulo di stasi Che hai appena preso Sì Allora Ricordo di caricare La stasi Oh Fantastico Questo magari È buono per noi Se casamai Però non so Scusate Nel tanto Mi devo Grazie per il suo Badaggio Allora Dobbiamo andare di là Facciamo questi scherzetti Ups Ehi Sì Dove che cavolo andiamo Ah ok Si vedeva una mazza Io devo andare dall'altra parte Però C'è Setti Un bel kit medico Sono 17 Questi Non pensa Non pensa che Vabbè Sì Abbiamo beccato solo Roba buona Per noi Fantastico Torniamo indietro Subito E andiamocene Quindi Mi conviene a questo punto Colpirli Proveremo Perché non so Il tipo d'attacco Ci abbiamo Puoi usare il modulo di stasi Con il meccanismo di quel braccio Ok We got it Io E questi Ok Ok I'm good mamma mia santa è vero che devo risparmiare colpi magari per adesso forse devo andare qua a chiudere tutto attendo che attendo che mi arriva ma che cosa si sta muovendo porca miseria porca mi sembra più forte questo arrivo 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 sento di passo vai vai rapido sento dei passi sento ricarichiamo stasi ricaricato si si di qua di qua questo era anche rapido è a crediti aspetta mi sono fottuto i soldi di questo io penso che con i crediti ci compreremo qualche cosa no ora sto sblocchiando sono entrata nel sistema di sicurezza del ponte non è stato facile ma ora la porta del centro manutenzione è aperta la scheda dovrebbe essere là si devo la scheda si è aperta sento qualcuno che ci sta seguendo mi salvo magari salvato no è meglio salvare penso che ah vedi ok medikit avanti isaac sono kendra sembra che la porta del magazzino sia bloccata dovrebbe esserci una chiave da qualche parte nel centro manutenzione si non 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 ok la miseria ne arrivano altri è morto o si allora di qua devo andare poi dopo ci ritorniamo io dico che sto sbagliando a strada ahia ho già capito ah anche di tazzo va andare ho già capito perché penso che con le bombolette possiamo far saltare a tutti magari possiamo anche utilizzare o forse una volta ecco ecco no no guarda che l'ho vista la bomba questa attenzione a terra oh è il nuovo giusto morto si allora raggi stoff possiamo far saltare a tutti quanti con le bombolette aperta apertura la c'è una cassa grande andiamo ricordiamoci sempre della stasi ok ci sono vai mamma mia ho solo il teore che a un certo punto le munizioni finiranno non so come cavolo farimo se ne vabbè è classico vabbè è classico poi ho seguito uno che rideva che c'è la lander questo è un muro 50 colpi mi ha fatto sforgar minano 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 eh no eh no eh no eh no sicuro però parca non si è la navedetta come si fa ok penso di avere tutto adesso ho la scheda torniamo indietro ho speranza di non becchiare arriva arriva io lo so che prima o poi finiranno prima o poi finiranno e siamo portuti non ci attaccano mai qua dentro meno male via 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 e mo? qua ce la faccio entrare ok ci siamo? scheda? ok c'ho la scheda chissà i nodi energetici per potenziare le armi chissà i nodi energetici per potenziare le armi non vedo una mazza eh pensa ai pipergiamento riparazione al mio circuito ok lama al plasma usciamo usciamo che arriva non mi sarei mai riusciti a perchezza che il problema è l'altro di qua se non è non c'era mai detta schifosa non c'avete niente eh? no eh no lo riporto lo riporto vai 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 mi era morto e apri oh non volevo sprecare il corpo ma non si è aperta la porta veramente visto bastardo non si è aperta la porta o magari ci ha messo tanto tempo che Exactly la porta. Guardate, ci aveva messo in tensione la difficoltà. Ti sta mettendo tutto sul tempo, sta scendendo. Ho alcuni subito li smembri, altri ci mette 3 euro. Io questa parte la termino qui, ci vediamo al prossimo video. Ciao!